Niente più bypass attorno al metano d'otto, cambia il progetto per via Marinella, progetto che ha avuto il via libera da parte della giunta sarzanese. Alla base di tutto c'è lo sblocco di 292 mila euro ottenuto dall'amministrazione sarzanese cui si è sommato un nuovo studio idraulico. Le risorse ora a disposizione sono state ottenute grazie alla duplicazione del Comune che da una parte si è costituito in giudizio lo scorso novembre circa presunte difformità nell'esecuzione dei lavori sul Parmignola e dall'altra ha commissionato uno studio idraulico nel tratto che va dall'Aurelia di Ortonovo sino al mare che ha già avuto il parere favorevole del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino del Magra. Questo ha convinto amministratori e tecnici a ripensare l'intervento lungo il torrente rimodulandolo su un miglior rapporto costi-benefici. Cosa prevede il nuovo progetto approvato? In parte l'utilizzo della vecchia carreggiata allargandola di circa un metro e mezzo e la realizzazione di una nuova pavimentazione. Questo consentirà il transito dei veicoli a doppio senso di marcia lungo via Marinella riconsegnandola così di fatto alla fruibilità dei cittadini. Questo intervento, dicono il sindaco Alessio Cavarra e l'assessore lavori pubblici Massimo Baudone ci consente anche di risparmiare perché costerà circa 47.000 euro rispetto ai 125.000 previsti per la realizzazione del bypass attorno al metanodotto. Inoltre la gara, che potrà essere sperita dagli uffici comunali, consentirà di velocizzare i tempi di aggiudicazione e realizzazione dell'opera. Resta fermo il fatto che in caso di allerta meteo o rischio per la popolazione la strada verrà preventivamente chiusa. In questi giorni, concludono l'assessore Baudone, il sindaco Cavarra, la Regione Liguria ha inoltre pubblicato il bando di gara per la realizzazione dei lavori per la messa in sicurezza del tratto focivo del parmignola.